macchina che prende velocità si va per il punto di stacco partiti in questo momento l'otto nei numeri esterni c'è stato l'errore di Resina-Holz lo scatto di Remember che va davanti facile è partito bene numero due Enric è grado da squalificato nella scia di Risacca di Fumo che mantiene la seconda posizione cavalli in lunga fila indiana viene di fuori subito Rubia Grif ma per il momento rimane scoperta il lancio violentissimo di Jonathan Benfenati 14-8 per il paletto dei 200 Rubinia cerca di andare in corda lo fa quarta nella scia di Rivarolo davanti a Runner Fish adesso è rimasto scoperto Ribes Ducras altro che viene dalla seconda fila intanto 16 di frazione per Remember che ha potuto graduare sul finire della dirittura opposta Remember si distacca in avanti lo segue a qualche lunghezza Risacca di Fumo ad altrettanto Rivarolo che viene accostato dopo il finire della curva da Ribes Ducras frazione in 15-4 nella scia di Ribes Ducras sta andando Rondò Veneziano ma tiene andatura il battistrada che non si fa avvicinare ancora 15-1 33 di intermedio per Remember e Jonathan Benfenati che vanno finché ce n'è un cavallo che è ancora molto verde e che si distende bene in avanti 15-3 la frazione fa fatica a recuperare Rondò Veneziano e perde la scia di Ribes Ducras al largo poi si apre di Galloppo l'allievo di Totano numero 8 Rondò Veneziano squalificato gli ultimi 400 frazione in 15-1 in vantaggio Remember ha perso qualche battuta Risacca di Fumo che rimane ancora seconda Rivarolo terzo in corda cala anche Ribes Ducras prova a venire in avanti Rubinia Griff ma è ancora lontana dei primi 14-7 di ultima curva sta facendo un numero anche dal punto di vista cronometrico Remember che deve solo trottare gli ultimi 50 metri per il secondo posto Cilotta sul traguardo Rubinia Griff copre completamente Risacca di Fumo bisognerà probabilmente andare dal giudice 1-15-4 la media del vincitore del chilometro davvero una prestazione superlativa di Remember al miglior raguaglio di giornata con Jonathan Benfenati allenatore e guidatore per la collina Moreniche attenzione ordine d'arrivo all'esame della giuria